Ok ragazzi, siete il vicepresidente del Consiglio Nazionale di Sicurezza della Federazione Russa, nonché il minacciatore ufficiale di guerre termonucleari. Ebbene sì, siete medvedere. E negli ultimi dieci giorni, da quando cioè gli ucraini hanno invaso la regione del Kursk, il vostro unico intervento è stato questo. Gli ucraini riceveranno certamente la punizione che gli spetta per quello che hanno osato fare. Un tipo di punizione che comporterà diverse conseguenze. Per tutti coloro che hanno preso parte a quest'operazione, compresi i vertici del regime di Kiev. E quindi, quando giuri vendetta, tremenda vendetta, ma in realtà sono almeno dieci giorni che il nemico scorrazza allegramente per i tuoi territori, che cosa potrà mai andare storto? Diciamocelo, l'ultima settimana per il governo russo è stata la coronazione della madre di tutti i fallimenti. Anzi, chi dico della madre? Dell'imperatrice di tutti i fallimenti. Diciamoci le cose come stanno. I russi hanno sbagliato i calcoli in relazione all'intelligence politica. Hanno sbagliato i calcoli in relazione all'intelligence militare e hanno buttato letteralmente dalla finestra milionate e milionate di rubli per delle difese che non sono riuscite a reggere un singolo giorno. In pratica, Medvevev parla sì di vendetta, ma il governo russo non ha a disposizione nemmeno le brutte copie cinesi degli Avengers. Quindi, dove volete che possa andare nel breve periodo, ma soprattutto come ha fatto il governo russo a cacciarsi in un bippino del genere? Scopriamolo insieme. Come potete facilmente immaginare, ma non affermare liberamente in Russia, il principale responsabile di quanto è accaduto è niente po' po' di meno che il presidente Vladimir Vladimirovich Putin. Il presidente russo ha infatti sbagliato alla grande tutti i calcoli relativi all'intelligence politica degli ucraini. E a questo punto qualche iscritto al canale potrebbe porre una domanda del tipo, ma avvocato, chi bippo è l'intelligence politica? Non ce ne hai mai parlato prima? Esiste questo termine? Sì, credo di sì. L'intelligence politica è semplicemente un termine raffinato per darsi un tono quando si parla di valutare il comportamento di un'altra nazione sotto il profilo politico. Tecnicamente l'intelligence politica affronta il tema del, gli ucraini questa cosa qui la possono fare oppure no? E si va di bene, stiamo parlando di poter fare qualcosa sotto il profilo politico, non tecnico o militare. In teoria tu puoi avere tantissime armi, ma se trovi il crosetto di turno che ti dice queste armi tu in Russia non le usi, beh, non puoi attaccare la Russia. Molto banalmente, zio Vlad era convinto e straconvinto che gli ucraini non avrebbero mai e poi mai ottenuto luce verde per attaccare la Russia sul suo territorio. Come è noto, infatti, le forze occidentali sono state sempre più o meno recalcitranti quando si trattava di contrattaccare i russi sul proprio territorio. Gli Stati Uniti, per esempio, non hanno mai autorizzato l'uso dei loro missili Atakams contro bersagli che si trovassero al di fuori della Crimea e del Donbass occupato, tant'è che gli ucraini, per colpire le raffinerie e gli aeroporti russi, dipendono pressoché integralmente da armi e droni prodotti nazionalmente. Quando gli ucraini attaccano una raffineria a qualche centinaio o addirittura migliaio di chilometri dal confine, usano i loro droni, cioè praticamente degli aeroplani da turismo robotizzati e convertiti per portare grossi carichi di esplosivo. Funzionano talmente bene che molti di noi involontariamente pensano che siano armi occidentali, ma non è così, sono armi ucraine. Comunque sia, Zio Vlad era straconvinto che gli ucraini mai e poi mai avrebbero attaccato il suolo russo, perché attaccare il suolo russo avrebbe messo in pericolo i buoni rapporti con l'Occidente e magari avrebbe potuto portare a un taglio dei fonti oppure ancora a un'interruzione del flusso di armi. Zio Vlad, pensando che il mondo politico occidentale pullulasse di Crosetti, Salvini e Vannacci, ha dormito sonni tranquilli e non si è accorto che in realtà c'era una clausola che effettivamente permetteva l'attacco diretto nell'area del Kursk. Gli americani infatti avevano detto sì, potete usare le nostre armi anche nel territorio contiguo al vostro al fine di rendere impossibili gli attacchi sul territorio ucraino. E guarda caso questa operazione militare speciale in territorio russo sta costruendo quel famoso cordone sanitario che dovrebbe aiutare gli ucraini a proteggere il loro territorio. Poi si tratta di un cordone sanitario che ad oggi è più ampio di circa mille chilometri quadrati, comprende 40 insediamenti russi, ma hey, sono cose che capita. Tra l'altro ragazzi un senatore americano ha anche salutato gli ucraini dicendogli bravi ragazzi prendete i russi a calci nel bipulo. Ha usato letteralmente questa espressione. Per cui sì, zio Vlad ha completamente sbagliato il calcolo politico. In secondo luogo il governo russo e naturalmente zio Vlad hanno il problema su come gestire le risorse disponibili. Sì, lo so, secondo i nostri amici filorussi e secondo il professor Orsini in particolare, zio Vlad avrebbe a sua disposizione un esercito con risorse personali virtualmente infiniti. Verosimilmente i filorussi pensano che zio Vlad abbia una specie di cheat code multiversale che gli permette di avere milionate, milionate, milionate di soldati da una parte e triliardate di mezzi, eventualmente anche invisibili come i su 57. La realtà è invece ben diversa. La realtà è che la Russia ha o aveva circa 140 milioni di persone, ma non tutte queste possono essere arruolate per andare a combattere e naturalmente non tutte quelle che vengono arruolate possono combattere efficacemente. Devi infatti reclutare le persone, addestrarle ed equipaggiarle come si deve. Tutte queste tre attività ti comportano costi e tempo. Il governo russo in qualche modo negli ultimi dieci anni aveva organizzato l'esercito per quest'operazione, ma di fatto si aspettava per l'appunto un'operazione da tre giorni, da fine settimana lungo. Invece gli ucraini hanno resistito talmente tanto da costringere zio Vlad e soci nel settembre del 2022 a reclutare carcerati in modo massivo, a reclutare contractor e soprattutto ad attivare la mobilitazione. La mobilitazione naturalmente ha comportato un costo enorme sotto il profilo sociale. Circa un milione di russi ne hanno approfittato per espatriare e sono andati a ripararsi ad ovest, altri ci hanno provato ma non ci sono riusciti, altri ancora si trovano attualmente esiliati. Fatto sta che reclutare e mobilitare quelle persone ha avuto un costo politico non indifferente per zio Vlad, che sì è un dittatore ma non può tirare evidentemente più di tanto la porta. Quindi appena è stato possibile zio Vlad è passato dalla mobilitazione a reclutare volontari. Ora, come tutti sapete, i volontari firmano volontariamente per entrare nell'esercito ma non fanno volontariato. Vogliono essere pagati e devono anche essere pagati in modo per così dire interessante. Come ben sapete al momento attuale zio Vlad offre una tantum circa 19.000-20.000 dollari equivalenti per ogni persona che si arruola. In più offre uno stipendio minimo che si aggira credo sui 2.000 dollari equivalenti al mese. Praticamente se ti arruoli con l'esercito russo guadagni in prima battuta e per i primi periodi più di quanto porteresti a casa se ti arruolassi nell'esercito degli Stati Uniti. Per i russi è tanta roba ma è anche un costo enorme, costo che deve naturalmente essere affrontato dal governo, il quale si ritrova a pagare degli incentivi a letteralmente centinaia di migliaia di persone, tra l'altro neppure tutti i cittadini russi. Oltre a questo costo c'è un danno per l'economia nazionale perché per l'appunto se tu mi recluti 100.000, 200.000, 300.000 soldati e tra l'altro mi recluti quelli che sanno fare qualcosa a livello logistico o tecnico, similmente mi stai togliendo della forza lavoro qualificata dall'economia nazionale normale. Quindi questo ti provoca un secondo problema perché poi i posti di lavoro restano vacanti. Puoi sostituirmi un operaio, per intendermi, perché bene o male un minimo di lavoro manuale lo sanno fare tutti. Ma se tu mi recluti per esempio gli ingegneri o i meccanici esperti, io non ho qualcun altro da mettere nelle aziende civili dalla notte alla mattina. Quelli erano i miei ingegneri, quelli erano i miei meccanici, davvero non ne ho altri. Tra l'altro la disoccupazione in Russia era più o meno al 2,5-3%, quindi già bassa di suo. Nonostante ciò comunque il prodotto interno lordo rosso nominalmente aumenta di un buon 3,6%. Ma il problema non è che il prodotto interno lordo aumenta nonostante questi problemi. Il problema è che aumenta proprio per via della guerra. E così, oltre a dover pagare bene i soldati, ad avere una controzione della produzione non legata alla guerra, peraltro il costo dei carri armati ricade sempre sul governo, devi anche fare i conti con gli ucraini che cercano di minare il tuo principale business. Ne abbiamo parlato spesso in questo canale, non è un segreto di Stato che gli ucraini utilizzino i loro droni per colpire delle raffinerie e i depositi di carburante. In questo modo i russi, che principalmente al 70% dipendono dall'esportazione di carburante, vedranno una contrazione di risorse non indifferenti. Se mettete insieme tutti questi elementi e li sciecherate a dovere, capirete che in realtà Zio Vlad non ha affatto il chat mode operativo, non è in grado di ingannare il sistema e anzi si ritrova esattamente come ognuno di noi a gestire il suo non esattamente piccolo bilancio. Alla fine anche lui, insieme al suo governo, si è trovato di fronte a una decisione più o meno difficile. Quanti soldati metto a difesa dei miei confini orientali e quanti invece li mando a Mor-Em a combattere per la liberazione del Don Baue e del Lugansky? La risposta a questa domanda non è naturalmente semplice, perché ci sono moltissimi fattori in gioco e molto dipende dalla tua intelligence militare. Ora, normalmente, se questo fosse un videogioco diremmo che dovrebbe esserci una cosa chiamata nebbia di guerra. La nebbia di guerra è quel fattore che ti permette di vedere solo il movimento delle tue unità e di quello che le tue unità sono in grado di vedere. Quindi se hai un nemico nel raggio visivo delle tue unità lo vedi, se non ce l'hai ciccia, non c'è. Però poi lo senti quando attacca. Bene, zio Vlad, o meglio il governo russo e l'esercito russo, sono stati dei pessimi collettori di intelligence. Hanno visto che gli ucraini negli scorsi mesi hanno fatto qualche raid, ma l'hanno bene o male subappaltato, per così dire, ai ribelli russi. Quindi gli hanno dato quattro veicoli scrausi, gli hanno dato quattro fucili d'assalto e hanno visto che cosa succedeva. Non è successo molto. I russi hanno detto, beh, stiamo relativamente tranquilli. Ora, naturalmente, lasciare nessuno ai confini pare brutto, perché è come dire, aprimi la porta, dai, vengo. Una difesa ci deve essere. Per cui, quanti uomini ci mettiamo? E qui, zio Vlad, probabilmente Shoigo e il suo successore, hanno sbarellato alla grande. Faccio un'ipotesi. Tu sai che per respingere un raid nemico, ti bastano, che so, 5 uomini ogni 2 km, ogni 3 km. Sono tantini, però ti bastano per un raid. Per respingere, invece, un'invasione su larga scala. Quanti uomini e quanti mezzi devi impiegare? Magari ne devi impiegare 20, 4 volte tanti. Il che è davvero tanta, tanta roba, perché poi li devi anche equipaggiare e mettere i mezzi. E dici, ma secondo me non ne vale la pena, perché tanto gli americani non gli passano i missili, non gli permettono di usare i missili sul nostro territorio. Hai Crosetto che si agita, figurati se Zelensky vuole deludere Crosetto, che poi lo dice a Giorgia e Giorgia col mattarello è una che proprio ci va giù pesante. Fanno questo discorso qui e ragionano naturalmente a risparmio. Dicono, sì, può esserci qualche raid, quindi mettiamoci, che so, 3-4 soldati sono più che sufficienti per gestire il raid. Non è ottimale neanche per il raid, però possiamo fare così. O magari i russi hanno fatto un calcolo ancora diverso e hanno detto, per il raid servono 5 soldati, per gestire un'invasione 25, buttiamone dentro 7 e mezzo e tiene il resto. Al di là del mezzo soldato che non può fare molto senza le gambe o senza la testa. Però il concetto è questo. I russi hanno probabilmente fatto la media del rischio e hanno piazzato un tot numero di soldati. Un numero di soldati palesemente insufficiente per fronteggiare un'invasione vera e propria. Oltretutto sul confine i russi hanno messo anche soldati di leva. Sì, c'è anche qualche soldato d'elite come quelli dell'Arkmat, ma alla fine sono più tiktoker che soldati. Non hanno funzionato benissimo. Ma questo probabilmente non era del tutto prevedibile da parte di Ziavlad. Il concetto di fondo è che comunque i russi hanno applicato l'algoritmo sbagliato per calcolare quanti uomini erano necessari per la difesa e non li hanno schierati. Vuoi per errore letteralmente di calcolo oppure per errore di valutazione di intelligence politica. A questo punto gli ucraini hanno detto ehi guarda quest'area è completamente sguarnita. Sì, forse c'entra un pochino anche l'intelligence occidentale, ma il concetto di fondo è che ehi guarda ci sono pochissime guardie al confine, potremmo sfondare. E quindi gli ucraini con molta discrezione hanno iniziato a spostare qualche truppa da là a qui e da qui a là. I russi stranamente, ma forse poi neppure tanto vedendo come si comportano, non se ne sono accorti, non ci hanno fatto caso, non ci hanno prestato attenzione. Hanno lasciato i confini più o meno sguarniti. Hanno lasciato quelle 5 persone a chilometro quando magari ne servivano 25 giù di lì. Tra l'altro i russi avevano anche speso miliardate e miliardate di rubli per una linea difensiva. Normalmente quando progetti la difesa cosa fai? Lasci alcuni soldati in prima linea che dovrebbero dare la forma alla battaglia perché hanno il vantaggio per l'appunto del campo. Il nemico, l'attaccante, sceglie dove attaccare ma il difensore ha il vantaggio per l'appunto di poter sfruttare tutte le strutture predisposte a difesa. In teoria le persone che si trovavano sul confine avrebbero dovuto reggere e resistere all'urto dell'attacco mentre delle unità che si trovano in rinforzo in seconda fila e che in teoria dovrebbero essere molto mobili arrivano poi per coprire i primi difensori e bloccare l'avanzata del nemico. Queste truppe altamente mobili e specializzate avrebbero dovuto essere quelle degli Akhmat, i Kadiroviti, ma come tutti sappiamo i Kadiroviti o sono scappati o sono rimasti all'interno delle loro roccaforti o al massimo hanno svolto attività di contenimento, sì, ma nei confronti dei coscritti russi che si trovavano alla frontiera impedendogli di ritirarsi e costringendoli a combattere. Una battaglia persa. Gli ucraini che sono riusciti a sfondare delle difese preparate in teoria nell'arco di un anno e mezzo, due anni, all'inizio avevano solo 300 uomini per cui sembrava un'incursione da nulla, poi sono arrivati a 1000, 2000 e probabilmente continuano ad aumentare. Il vantaggio degli ucraini è che combattendo in quest'area non hanno incontrato le fortificazioni russe che invece si trovano nell'Ucraina meridionale, nelle zone occupate. In teoria per contenere i danni i russi dovrebbero riposizionare truppe che siano presenti nel sud dell'Ucraina, cioè nelle zone occupate, su questo fronte, ma a quanto pare Zio Vlad non sembra intenzionato a muoversi in tal senso. Ha nominato come responsabile delle operazioni il capo dell'FSB, quindi neppure un uomo dell'esercito. Detto fra di noi l'FSB sono i servizi segreti russi e controllano la polizia di frontiera, la stessa polizia di frontiera che non si accorta degli ammassamenti ucraini al confine. E quindi per ora la situazione resta ancora fluida. Fa sorridere un pochino il fatto che Zio Vlad, o meglio, i collaboratori militari di Zio Vlad stiano cercando di tracciare una linea difensiva a ridosso di una superstrada, credo sia alle 35. Ma è troppo tardi perché, uno, gli ucraini hanno superato delle difese ben migliori di questa. Questa la stai costruendo in maniera veloce e raffazzonata, quindi non credo che reggerà, ma soprattutto se me la ricostruisci a ridosso della superstrada che vuoi proteggere, quella superstrada resta vulnerabile ai droni e all'artiglieria nemica. Quindi cosa la costruisci a fare? Cosa sprechi risorse a fare? Però ragazzi, il mondo è bello perché è vario. Al momento attuale gli ucraini stanno ancora combattendo per espandere la zona controllata. Non abbiamo dati ufficiali, perché gli ucraini sono serissimi sotto questo profilo, fanno filtrare pochissime cose, per lo più di propaganda, tipo per esempio quanto sono buoni e gentili nei confronti dei bambini e degli anziani, ma assolutamente nulla che possa essere utile al nemico. Viceversa, i blogger militari russi, i cittadini russi e gli stessi soldati ci fanno arrivare una marea di video che possono anche avere una certa utilità a livello tattico e forse operativo. E comunque questa è in breve la storia di come siamo arrivati a questo punto. In pratica Putin e naturalmente il suo governo hanno compiuto una serie di gravi errori di valutazione e ora ne stanno pagando il prezzo. Non solo ne stanno pagando il prezzo, ma non sembrano intenzionati a correggere nel breve periodo gli errori operativi. Quindi anche a livello strategico è verosimile che ne risentiranno. E voi che cosa ne pensate? Come sempre fatemelo sapere lasciando scritto qualcosa qui sotto. Se poi vi piace il mio canale ricordatevi di premiarlo iscrivendovi, attivando la campanella, condividendo il link al video sui social che frequentate e naturalmente lasciando un mi piace grande e grosso qui sotto. Se poi volete strafare potete per esempio abbonarvi oppure ancora diventare dei Patreon.